Crediamo che la conoscenza finanziaria sia essenziale per i giovani di oggi. Ci aiuta a capire il mondo intorno a noi, a scegliere bene, a vivere meglio. Il progetto di Junior Achieve espose esattamente i nostri obiettivi, le tematiche riguardano la finanza, l'economia e il fare impresa. Abbiamo fatto delle domande a degli adolescenti dagli 12 ai 14 anni e abbiamo spiegato un po' come funzionava. Le fienerità sono quelle appunto di fornire strumenti, conoscenze per gli imprenditori e i leader di domani, certo, ma anche semplicemente per i nostri cittadini e consumatori.